Gran Varietà Brachetti è la nuova compagnia di giovani talenti ideata da Arturo Brachetti, il trasformista più famoso del mondo, che aprirà tra l'altro un museo della magia a Torino, la sua città da dove parte il tour che toccherà tutte le maggiori città italiane. Lo ha intervistato Margherita Ferrandino. La prima novità è che non sono più solo a fare 80 personaggi, siamo in 21, e che quindi il peso di questo grande spettacolo non poggio solo sulla mia cabeza qua ai miei 66 chili, ma tra il talento di questi 21 incredibili artisti, veramente io sono molto contento nel vedere il successo di altre persone che io non potrei mai avere, non potrei mai fare il trapezista. Senti, però la linea è sempre quella, metà tra la realtà e la fantasia, l'illusione, la magia. È la realtà immaginata che ci rende più felici, ma è così, c'è gente che crede, fa finta di avere i soldi, non li ha, c'è gente che fa finta di avere molte fidanzate, neanche una, però è contento così. Per essere felici ci va molta magia perché dipende tutto da noi. Aprirei volentieri qui a Torino un museo sulla magia, un luogo dove uno può venire e essere un po' portato in un altro mondo. Spero che si realizzi proprio perché a un certo punto poi non è che a 80 anni sono ancora lì a fare Madame Butterfly, anche per lasciare un po' di bagaglio. Ho bisogno di poter avere dei progetti che esistono anche senza di me.